Sade! Ciao Cadabrini! La puntata finisce qui. Nella prossima puntata ci saluteremo dove parlerò di personaggi nuovi. Perché ovviamente, ultima puntata, no? Si parla di personaggi nuovi, sapete che qua gira sempre tutto all'incontrario, all'agra Cadabra Show. Quindi appunto vi aspetto alla prossima puntata, perché questa è la penultima puntata di questa stagione. Di chi voglio parlarvi nell'ultima puntata? Non vi voglio spoilerare nulla. Però, se volete andare a vedere la Santa Bibiana, sappiate che ha di nuovo cinque dita. Ho trovato una foto dove hanno mostrato che hanno rimediato al danno. Ecco, visto che avete fatto un lavoro splendido, nemmeno si vede che è stata rotta. Fate magari anche un giro per Roma a coprire qualche buca. So che non è compito vostro, ma sarebbe una cosa gradita. Ci vediamo alla prossima puntata. Vi voglio bene. Ciao. Maestro Midi e Sade!